ma non c'è solo questo etsiam continua cicerone tibi nunc omnia belli vulnera sananda sunt inoltre etsiam tutte le ferite di guerra omnia belli vulnera vanno sanate vanno guarite sananda sunt que ferite che nemo nessuno tranne te preter te può guarire mederi potest e arriviamo all'appello finale devictis adversaris sconfitti gli avversari rem publicam ineo statu in quo nunc est relinquere non potes non puoi relinquere lasciare rem publicam lo stato ineo statu in quella o stato in quella condizione in quo nunc est in cui si trova ora ec igitur tibi reliqua pars est questa ec è dunque igitur la parte pars reliqua tibi restante per te o meglio questa è l'ultima parte che ti attende hoc tibi elaborandum est questo devi fare con impegno rem publicam constitue riforma constitue rimetti in piedi lo stato rem publicam